L'Etna lunga i tempi ma non accorce il tiro. Ancora in azione il cratere di sud-est. Alte fontane di lava e una colata che la morfologia del terreno indirizza nella sottostante valle del Bove. Un'imponente colonna di gas e cenere si leva dal cratere per alcuni chilometri piegandosi sul versante orientale del vulcano, nella zona tra Zafferano e Tinea e Acireale. Nessun problema per l'aeroporto di Catania. Il fenomeno si è attivato poco dopo la scossa di terremoto registrata nel Messinese. Per gli esperti dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania un'altra significativa indicazione sull'influenza che i terremoti potrebbero avere sui fenomeni eruttivi.